Buonasera e ben ritrovati al nuovo appuntamento con Terrazza incontro all'ambiente e all'energia. Caro Bollette, energie rinnovabili, mezzi elettrici, sì o no? Sono questi alcuni dei principali temi che dibatteremo questa sera con i nostri ospiti che sono venuti a trovarci. Ospiti che ovviamente vado subito a presentare. Tanto saluto e ringrazio Alessandro Migliorini, Country Manager di European Energy. Buonasera. Buonasera. Buonasera anche a Marco Garbero, General Manager di Expo Energy Solutions Italia. Buonasera. E buonasera a Alessandro Ferrari, responsabile commerciale e business Iran e mercato. Buonasera. E a Stefano Massucco, Delegato del Rettore dell'Università di Genova. Buonasera a tutti. E buonasera anche a Jacopo Riccardi, buonasera, logistica Porti Energia della Regione Liguria. Buonasera a tutti. Buonasera anche a lei, a Marco Silvestri, direttore Genova Car Sharing. Buonasera. Allora, l'ambiente, il cambiamento climatico, l'Europa prova a fare qualcosa con alcune proposte direttive che fanno anche discutere, proposte che sembrano lontane a ne luce da noi, ma in qualche modo avranno ricadute importanti proprio sulla vita di tutti i giorni. Ce le spiega con un blitz che facciamo a Strasburgo, Marco Campomenosi, eurodeputato della Lega, capo delegazione della Lega, che vado subito a salutare. Buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Insomma, stavamo dicendo, onorevole, che l'Europa, dove lei in questo momento si trova nella capitale politica dell'Europa, prova a fare qualcosa per mettere un freno alle problemi legate all'ambiente, ma con qualche difficoltà. A che punto è la situazione? Com'è la situazione? Perché, insomma, le voci che arrivano proprio da Strasburgo anche, insomma, sono voci che preoccupano un po', mi riferisco ai lavori, che anche chiunque di noi dovrà, forse dovrà fare, chissà, ne parleremo nel corso della puntata, magari mettere mano al portafoglio per far sì che i propri appartamenti, i palazzi vengano messi in regola. Com'è la situazione? Ma sì, ora, io ho un panel di ospiti nella vostra trasmissione che fanno parte di aziende che sono molto ambiziose e che sicuramente potranno dire la loro in quella che è una transizione, appunto, complessa e sfidante per tutti. Attenzione, la mia premessa, per non passare per quello negativo, è di dire che gli obiettivi a Strasburgo li condividiamo tutti, li condividono tutti i partiti politici. Il problema è che abbiamo magari visioni differenti circa la strada, i tempi e le modalità per raggiungere questi obiettivi. Lei ha citato la direttiva sulla prestazione energetica delle abitazioni, per fortuna, oltre all'Italia che ha espresso qualche perplessità anche per, appunto, tempi e modi di, come dire, fare questi interventi su un patrimonio immobiliare che per circa il 70% in Italia è rappresentato da case sotto la classe energetica E, se non è un dato impreciso. Ecco, oltre all'Italia oggi anche la Germania dice, vabbè, su questo test proviamo a introdurre qualche correttivo. Perché ci mancherebbe, sappiamo bene che anche le case fanno delle emissioni importanti, ma abbiamo tutto il settore, per esempio, di chi produce dalle pompe di calore a strumenti ancora più tecnologici, che si trovano di fronte improvvisamente a degli obiettivi molto superiori rispetto a quelli che dovevano già rispettare prima. Quindi tutto questo non farà che produrre dei costi. Sul tema delle rinnovabili, mentre i governi chiedevano un obiettivo che passasse dall'attuale circa 30 al 40, il Parlamento europeo voleva 45 e si è scelto salomonicamente 42,5, ma senza un criterio scientifico dicendo no, 42,5 va bene. No, semplicemente perché non riuscivano a mettersi d'accordo. In entrambi i casi si tratta ancora di testi che possono essere migliorati. E poi, attenzione, c'è un aspetto geopolitico che riguarda anche la capacità di ciascun Stato membro di essere un po' più pronto degli altri su alcune cose. Forse vi ricordate che nella discussione sul motore a scoppio si parlava di quanto per la Germania i cosiddetti e-fuel fossero da difendere e l'Italia stia cercando, non è ancora detta l'ultima parola, forse purtroppo sì, di inserire anche i biofuel, che certo un impatto ce l'hanno sulle emissioni, ma minimo e molto inferiore rispetto agli strumenti che utilizziamo adesso. Quindi quello che noi stiamo cercando di fare, io certo sono della Lega, qui posso darvi un mio punto di vista, ma cerco di essere obiettivo, è quello di cercare di avere una sostenibilità anche sociale di certe misure, perché poi alcuni impatti li vivremo nelle nostre città, il full electric, l'andare senza un criterio di neutralità tecnologica, nonostante Germania e Italia stanno cercando di porre delle modifiche, ci mette nelle mani della Cina da un lato, non che già non lo fossimo abbastanza, e rischia di avere anche delle disparità all'interno delle nostre città. Ma i miei avversari del gruppo dei Verdi, per esempio, lo dicono chiaramente, non tutti potremmo usare l'auto privata, ma allora chi è che potrà usare? La potranno usare solamente coloro che hanno più risorse economiche per acquistare un'auto a basse emissioni? Ecco, questo è il tema onorevole. E questo secondo me, il tema politico che ci dovremmo porre fra qualche anno è quello dell'impatto sociale e del divario che rischia di crearsi fra chi potrà permettersi una certa mobilità o case con emissioni di un certo tipo e chi non potrà permettersi e sarà tassato per questo, con l'ETS2, che è uno strumento che è stato purtroppo approvato recentemente. Grazie, ha introdotto perfettamente quelli che sono gli argomenti che andremo a trattare questa sera. Insomma, grazie proprio per il suo introduzio davvero precisa, perché erano proprio questi gli argomenti dei quali parleremo questa sera. Intanto davvero la ringrazio, buon lavoro. Insomma, speriamo che in qualche modo anche l'Europa capisca che ci sono delle regole, ma c'è anche il buon senso a volte. Ma sì, ma stiamo cercando di lavorare proprio in questo senso. Io collaboro su questo anche con colleghi del PD che non hanno una visione così estremista. Quindi stiamo cercando di fare sistema fra coloro che vogliono cercare di avere il giusto equilibrio, perché gli obiettivi, lo ripeto, li condividiamo tutti, ma a volte il come arrivarci fra chi è troppo, fra virgolette, ambizioso e chi vuole guardare anche alle conseguenze sul mondo del lavoro e alle disparità sociali all'interno della nostra città, ecco, a volte ci vede un po' lontani. Grazie, grazie. Buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Buona serata. Riccardi, insomma, tra le proposte dell'Europa c'è quella legata proprio all'efficientamento energetico nelle abitazioni ed è questo un problema che riguarda tutti noi, quindi che preoccupa tutti noi. Come stanno le cose? Ma allora, oggi è il 9 maggio, è la giornata dell'Unione Europea e parlare anche di direttive e di indicazioni della comunità europea, è come dire, quando si toccano temi così sensibili merita una riflessione. Mi aggancio a quello che diceva l'onorevole Campomenosi. Sicuramente il percorso della negoziazione, della mediazione è ancora aperto e oltretutto dopo anche che fosse approvata questa direttiva di cui tanto si è già parlato, dobbiamo pensare che avremo tutto il tempo per il recepimento della normativa nazionale, quindi diciamo che questo strumento potrà entrare in azione nel 2025, ma bisogna prepararsi per capirne gli impatti. Oggettivamente quasi il 75% degli edifici di tutto il Paese è stato costruito prima delle normative energetiche e di sicurezza sismica, quindi si prone un problema che è stato anche quantificato in maniera importante di azioni sugli edifici, parliamo di 30 milioni di unità immobiliari, 9 milioni di edifici in tutto il Paese che dovrebbero essere efficientati. È chiaro che serve un sistema di supporto nazionale, probabilmente anche uno strumento comunitario. In realtà, per fortuna, ed è quello che in qualche modo l'onorevole già paventava, c'è nelle mediazioni un percorso di miglioramento. L'accordo che è stato raggiunto a marzo tra il Consiglio e il Parlamento, che è uno dei primi passi verso l'approvazione definitiva della direttiva, ha già mitigato alcuni aspetti, ha già previsto anche un meccanismo per colmare i divari, cioè se ci fosse un Paese che riesce a efficientare di più, può regalare in qualche modo gli effetti al Paese che in qualche modo potesse essere meno... La interrompo solo, ma per fare chiarezza, lei ha detto quindi in qualche modo che fino al 2030, 25, in qualche modo possiamo stare tranquilli, ma il 2025 è domani. È domani, non solo. Chi ci sta ascoltando da casa è preoccupato, perché insomma l'idea di dover mettere mano al portafogli, questa è la domanda che poi faccio anche agli altri, poi torno da lei. Ferrari, il problema che ha parlato adesso Riccardi è un problema grosso, enorme, perché insomma c'è il rischio di dover mettere mano davvero tutti noi al portafoglio, ma questi denari, davvero l'Italia o l'Unione Europea potrà in qualche modo venire incontro? La sensazione quale potrebbe essere che lei ha? Allora, intanto noi stiamo cercando anche un po' di dare delle soluzioni alle varie problematiche giustamente evidenziate e sottolineate. Noi siamo un'impresa del territorio, cerchiamo di trovare all'interno di quelle che sono un po' le nostre attività e la nostra missione delle risposte concrete. Una risposta concreta, ad esempio, non parlo di riqualificazione dell'edificio, ma in un certo qual modo di contenimento delle bollette che si anche lega alla riqualificazione dell'edificio, è il tema delle comunità energetiche. Il tema delle comunità energetiche può essere una soluzione al carbolletta, so che ne avete parlato anche in altre trasmissioni, in particolare sul tema delle comunità energetiche ne siamo molti attivi, anche concretamente con dei risultati anche apprezzabili, sul tema dell'autoconsumo collettivo da una parte e sul tema delle comunità diffuse dall'altra parte. Ora, cos'è una comunità energetica? Io penso che il caro bollette dello scorso anno, qui parlo un po' per i telespettatori, che per essere anche un po' concreto e dare anche qualche risposta vicina a quelle che sono le domande che magari i nostri telespettatori si fanno, sia sotto gli occhi di tutti, l'hanno vissuto tutti. Qual è il modo migliore per risparmiare? Autocostruirsi, autofarsela l'energia, sotto certi aspetti. Serve un tetto? Sì, come fanno i condomini a beneficiare di questa opportunità senza poter mettere fisicamente one to one, uno a uno, il pannello fotovoltaico sul tetto? Attraverso queste comunità energetiche, che significa adottare il condominio di un impianto fotovoltaico, banalmente, o comunque una fonte di energia rinnovabile, fotovoltaico quasi per forza, perché penso che nessuno possa mettersi un palo eolico in giardino del condominio, anche se qualcosa da quel punto di vista qualcuno ha fatto, e beneficiare di un consumo collettivo, di un'autoproduzione diffusa che compensa i consumi collettivi. Questo la interrompo ma per capire, questo può farlo qualunque condominio? Questo può farlo qualunque condominio, di fatto, non c'è un vincolo, anzi il condominio è proprio l'ente giuridico perfetto per fare la comunità energetica, perché esiste l'ente giuridico condominio, mentre magari nella comunità energetica diffusa è un pochino più complicato trovare un soggetto giuridico che porta avanti la comunità, nel condominio invece viene benissimo, il condominio ha già il suo consumo autoconsumo e ha le bollette dei singoli condomini, per cui nel condominio la comunità energetica va a beneficio degli autoconsumi dei singoli, degli autoconsumi collettivi, con un tempo di rientro dell'investimento circa sui 5-8 anni. Andiamo presente che un impianto fotovoltaico dura 25 anni, l'incentivo è garantito dallo Stato per 20 anni, assolutamente sì, ed è il momento di farlo, tornerò da lei, tornerò da me, va bene. Assolutamente sì, Massuco, Ferrari parlava adesso di questa possibilità che la comunità energetica in qualche modo possono dare ai cittadini, lei ci crede intanto? Sì, no, senz'altro ci credo, io sono delegato del Rettore per l'Energia e insegno un corso molto specialistico che si chiama Gestione e controllo del sistema elettrico, le rinnovabili, le comunità energetiche, le rinnovabili, il fotovoltaico soprattutto, sono parte significativa delle comunità energetiche, possono essere sicuramente una risposta al caro bollette a patto di trovare gli strumenti non solo tecnici ma anche gestionali e giuridici che permetteranno di svilupparle. Relativamente all'incremento delle rinnovabili, io da ricercatore quale sono, uso volentieri anche qualche dato di tipo tecnico-scientifico, negli ultimi 12-15 anni le rinnovabili sono cresciute dal 16 al 42% per quello che è il fabbisogno energetico italiano, il che significa, avendo in mente anche qual è, io ho letto recentissimamente il piano triennale di sviluppo di Terna, l'ente che gestisce la rete elettrica italiana e si parla di un incremento di 70.000 MW di rinnovabili da qui al 2030. Attenzione, negli ultimi 10-12 anni, per 5 anni all'inizio il ratio di crescita annuo è stato di 4.000 MW all'anno, negli ultimi 5 è stato di 1.000 MW all'anno, quindi per coprire un fabbisogno di nuove energie rinnovabili così significativo occorre semplificare molto le procedure, trovare meccanismi di mercato che facilitino l'utilizzo e il tornaconto economico di chi installa energie rinnovabili. Lei è un ricercatore del settore, si immaginava solo qualche anno fa che la sua attività, che non dico che fosse di nicchia perché ovviamente non lo era, però che diventasse così ormai anche proprio di dominio pubblico, nel senso che se ne parla nei bar, la casalinga, la bolletta, ormai fra le famiglie si confrontano addirittura le bollette. Lei immaginava anni fa quando lei studiava questi scenari che ci sarebbero stati poi? No, indubbiamente no, a me capita di invitare esperti anche a incontrare i miei studenti, oggi pomeriggio ho fatto tre ore di lezione agli studenti di ingegneria elettrica e ogni tanto questi esperti, sto pensando a chi si occupa del dispacciamento nazionale dell'energia, cioè far sì che l'equilibrio tra potenza generata e potenza richiesta al carico sia istantaneamente realizzato e mi dicono apertamente queste cose le leggevamo sui libri scientifici qualche anno fa. Adesso con l'avvento delle rinnovabili e con tutti i problemi di gestione del sistema elettrico che esse pongono, problemi benvenuti e affrontabili naturalmente troviamo queste cose nella vita pratica di tutti i giorni per gestire un sistema così complesso. Garbero nel bilancio che avete presentato a marzo tra le priorità c'è proprio la decarbonizzazione, le fonti energetiche, insomma l'addio al fossile, ormai la direzione è questa? La direzione è questa, non sarà immediato di gas, ce ne sarà bisogno ancora per almeno una decina d'anni, però la strada è tracciata, la strada se vogliamo va lungo tre direttrici, una la riduzione dei consumi, l'efficienza energetica è la fonte energetica principale, cioè se io riesco a ridurre il consumo ho già fatto, ho ridotto la produzione da fonti termiche, la seconda è la maggiore penetrazione dei rinnovabili, quindi rinnovabili o come comunità energetica o con configurazioni di autoconsumo e la terza è se vogliamo anche decarbonizzare poi i trasporti, quindi poi il tema della mobilità che forse tratteremo più tardi. A proposito Migliorini, lei è genovese, lavora per un'azienda importante danese che si occupa di rinnovabili, parleremo più avanti di come sta la Liguria, non sta benissimo, lo sappiamo e affronteremo il problema proprio di come siamo ancora un po' indietro rispetto anche al resto d'Italia, ma lei è da genovese che lavora fuori, com'è la fotografia che fa del momento? Non della Liguria, poi ne parleremo dopo, ma proprio dell'Italia in generale, stiamo andando nella direzione giusta e con i tempi giusti? No e no, no nella direzione giusta perché comunque c'è un disalineamento totale tra il ricepimento di quelle che sono le indicazioni da parte dell'Unione Europea e poi questo atteggiamento eccessivamente emotivo che abbiamo in Italia nel legiferare che ha prodotto in due anni una serie di normative, di decreti, i cosiddetti chiamati di semplificazione, che di fatto di semplificazione non hanno nulla e che in realtà hanno creato un ulteriore collo di bottiglia. Quindi la direzione non è a mio parere quella giusta anche perché io ho modo di confrontarmi quotidianamente con colleghi che lavorano in altri paesi. Un'altra riflessione riallacciandomi un po' quello che ho sentito prima, non so quante persone conoscano un'azienda è chiamata Aramco, probabilmente parlando con le persone per la strada non la conosce nessuno. Bene, questa è la società petrolifera araba, dell'Arabia Saudita, che nel primo trimestre di quest'anno ha fatto un profitto di 33 miliardi di dollari, che è praticamente sostanzialmente la manovra di bilancio dell'Italia e da sola ha fatto più profitti di Google, Amazon e Tesla ha messo insieme. È la terza società più grande al mondo, dopo Microsoft e Apple. Questo significa che non stiamo andando nella direzione giusta, perché se queste aziende continuano ad avere questo impatto così rilevante a livello mondiale, vuol dire che gli slogan politici funzionano, ma nei fatti la realtà è ben diversa. L'Italia purtroppo, anche nell'ultimo anno, lasciando perdere i problemi geopolitici che hanno coinvolto un po' tutto il mondo, comunque continua ad essere il Paese che ha il prezzo dell'elettricità in Europa più alto. Quindi questo è un problema, secondo me, a livello normativo, estremamente rilevante ed è un problema che va gestito e non può essere gestito con i bonus 110%, perché se pensiamo che l'anno scorso in Italia sono stati costruiti quasi 2 gigawatt di fotovoltaico, l'80% sono impianti domestici. Ma perché? Perché c'era il bonus 110%. La interrompo solo un secondo. Ferrari, una battuta e mi deve rispondere al volo, perché abbiamo pochissimo tempo. Le bollette. Secondo lei si parla di una curva che è in qualche modo, ha iniziato la sua fase discendente. Ma cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Ci aspetta una sostanziale stabilità, almeno nel breve periodo. La situazione è molto diversa da quella dello scorso anno. Ci arriviamo con gli stoccaggi tendenzialmente molto più pieni. L'anno scorso erano molto vuoti. Arriviamo in una situazione complessivamente meno critica dello scorso anno. Lo stiamo vedendo anche sui mercati, sulle quotazioni forward dei mercati. Il prezzo è da gennaio in discesa. L'estate ci aspetta e che autunno ci aspetta, in una battuta veramente. Ci aspetta un autunno in cui siamo moderatamente ottimisti. Non possiamo escludere che non ci siano ancora tensioni sui mercati, dove però la sberla grossa l'abbiamo già presa. Sì, direi che l'abbiamo già presa è tendenzialmente un gruppo più di stabilità. Silvestri, se Massuco qualche anno fa non immaginava neppure questi scenari, pure uno che nella materia la mastica è anche abbastanza, voi come il car sharing è solo che qualche anno fa non immaginavate neppure che potesse esistere una cosa del genere? Sì, anche perché car sharing nel 2021 è stato rilevato da Duferco Energia che è una società energetica importante e noi abbiamo visto la transizione, abbiamo toccato con mano la transizione energetica dal termico all'elettrico, ma quello che vorrei dire è qua, ci sono molti spunti, quello che abbiamo visto è la velocità con cui sono cambiate tantissime cose dal 2021 a oggi. Banalmente la presenza di colonnine in autostrada, banalmente la presenza di infrastrutture per la mobilità elettrica per andare lontano e quindi la comunicazione spesso è in elettrico io non viaggio, non è così, fino a due anni fa era possibile e adesso è possibile. Quindi noi abbiamo 150 auto elettriche che girano. Ne parleremo dopo. Quello che io identifico è che bisogna governare la velocità, quindi bisogna governare questa velocità nella tecnologia, nell'approccio ai costi perché diventa sempre di più, ed è vero quello che diceva anche l'onorevole Campomenosi, alle volte può sembrare che sia ancora una mobilità da ricchi. Voglio chiedere ancora l'ultima battuta, prima di andare in pubblicità a Massuco, mancano figure professionali. Quali? Proprio in un minuto le chiedo da questa cortesia. Allora sicuramente mancano figure professionali nel settore specifico dell'energia perché la richiesta delle aziende, qui abbiamo un pool di aziende significative, la Liguria ha un pool di aziende molto interessanti sul tema energetico. Personalmente spendo una parola a favore dell'ingegnere elettrico, è una figura multidisciplinare, particolarmente moderna perché gestisce e controlla per esempio il sistema elettrico, lo sviluppo delle rinnovabili con una forte utilizzo delle tecnologie informatiche, dell'elettronica di potenza e anche delle tematiche dell'intelligenza artificiale. Quindi se lei dovesse consigliare a un ragazzo che ci sta seguendo, o a un papà che magari può consigliare al figlio, una figura, insomma uno studio, un percorso di studio, quale scegliereste? Quale consigliereste? Materie scientifiche sicuramente, se c'è la disponibilità anche, diciamo così, delle qualità e dei talenti delle persone e il mio settore, l'ingegneria elettrica, l'energia elettrica è assolutamente predominante. Quasi tutti i processi industriali si stanno spostando e anche l'utilizzo nelle città, nelle smart city, da tecnologie di tipo tradizionale, termico a tecnologie di tipo elettrico. Abbiamo dato anche un piccolo consiglio che potrebbe essere... Dovevo dire anche una parola a favore dell'Università di Genova, che è particolarmente qualificata e si spende a livello italiano ed europeo e mondiale tra le migliori università del mondo, specificatamente in queste materie. Chi esce dal vostro discorso, insomma, non dico che abbia un lavoro assicurato, ma insomma ha buone possibilità di avere... I nostri ragazzi, diciamo, a quello che era il quarto anno di una volta, cioè il primo anno della magistrale, già al termine del primo anno della magistrale, sono inseguiti dalle aziende e ci chiedono di fidelizzare il rapporto con le aziende. Anche in Axpo vuol dire che qualcosa prendete anche dai ragazzi che escono dall'Università. Una battuta, conferma? Confermo e sono fin troppo pochi. Questo quindi, insomma, è la notizia, non dico della serata, però insomma era quello che... Un orizzonte molto favorevole e di grandi prospettive. Bene, 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 siamo contenti. Matteo Campora, buonasera, assessore all'ambiente delle comune di Genova. Francesco Montanella, Gruppo G, buonasera anche a lei. E Giovanni Battista Raggi, Presidente Amio. Buonasera a tutti. E benvenuti a questa nostra tavola. Allora, la Liguria è una delle tre regioni italiane, insieme a Lazio e Sicilia, che ha mancato l'obiettivo stabilito dal piano energetico. La regione aveva dovuto raggiungere il 14% di copertura delle fonti rinnovabili, invece è riuscita ad arrivare solo all'8%. Lo vediamo nella grafica, insomma, una maglia nera. Riccati, insomma, per quanto riguarda le fonti rinnovabili, la Liguria, insomma, cosa può fare per cambiare il passo e perché non è riuscita ancora a tenere questo passo? Prima di rispondere, una battuta rapidissima sul primo giro di interventi. Credo che tutti siamo consapevoli, e vale anche per la pianificazione regionale, che la transizione energetica deve essere sostenibile, sostenibile sotto tutti i profili, deve essere sostenibile ambientalmente, ma anche economicamente e socialmente. Ogni tanto mi dico che più che la transizione serve la transitabilità energetica, cioè deve essere sostenibile e fattibile. E allora nel nostro piano energetico ambientale regionale, di nuova generazione, che abbiamo approvato come schema su proposta dell'assessore Benveduti a fine 22, che vedrà a fine 23 il suo percorso, ci siamo posti il problema di recuperare questo gap, oggettivamente ci vede e ci vede tra fanalino di coda quasi d'Italia sul risultato, ma ci siamo posti anche, prima di definire gli obiettivi, tre ragionamenti di presupposto. Vi faccio dire rapidamente, il primo è che ci sarà uno strumento nuovo che deve essere ancora completamente normato dallo Stato e poi dalla Regione, che sarà la definizione delle aree idonee, cioè tutte quelle aree in cui non sarà possibile dire che un impianto della fonte rinnovabile non sia ammissibile. Questo dovrebbe già garantire, in buona sostanza, a proponenti di buona qualità, un iter autorizzativo migliore. Poi una semplificazione normativa, giustamente Migliorini diceva che la normativa nazionale soprattutto non sempre si è mossa in maniera omogenea e ordinata, purtroppo c'è una superfettazione, un accumulo di norme che si rincorrono e si susseguono e modificano commi su commi a strettissimo giro. Ma l'orientamento è chiaro, l'orientamento è quello di permettere attraverso la riduzione delle autorizzazioni uniche e passaggi comuni. Però, non per maleducazione, ma perché voglio che a casa capiscano bene con termini anche molto semplici. La Liguria fatica e sta faticando a essere al passo con gli altri perché? Perché è stretta e lunga, perché non ha spazio, perché si può sfruttare il mare, si può che non ce la fa. Su alcune fonti rinnovabili la Liguria non potrà di fatto recuperare. Esempio, l'idroelettrico ha una certa potenza oggi di megawatt, pensiamo che non ci sarà un sviluppo particolarmente significativo per il carattere torrentizio dei nostri fiumi, ci potrà essere qualche altro impianto aggiuntivo, ma molto poco. Stessa cosa può valere per il sistema delle biomasse, c'è una certa produzione, riteniamo che anche al 2030, che è il nostro orizzonte, più o meno questo possa rimanere invariato. Però, per olico intendo l'eolico onshore, con tutte le attenzioni del caso, il potenziale che abbiamo indicato nel nostro piano energetico, cioè di aumentare al 2030 170 nuovi megawatt e oggi siamo poco sopra gli 80, non è l'idea di riempire di pale eoliche i crenali, ma parliamo di pochi impianti che possono avere una grande efficacia. Non abbiamo le condizioni per un eolico offshore tradizionale per l'altezza dei fondali, quindi non ci starebbero, ci starebbero delle eoliche offshore galleggiante che è uno strumento su cui dobbiamo lavorare, come anche altre energie alternative, innovative su cui stiamo già lavorando, come quella del moto ondoso. È chiaro che, e termino, il tema del fotovoltaico è la produzione più facile, più matura e quindi, in realtà, per insolazione, per equilibrio, per spazi, per superfici disponibili sia del pubblico che del privato, crediamo che il fotovoltaico diffuso, comprese le CER, possano dare quella spinta significativa per recuperare assolutamente. Riccardo, vi faccio parlare migliorini, perché sulle rinnovabili, proprio per quanto riguarda il porto di Genova, per esempio, ma potrebbe riguardare ovviamente qualsiasi porto della Liguria, un'idea, il biometano, può essere qualcosa più di una supposizione, di un'idea futuristica? Sì, assolutamente. E lo chiedo a Caricari, se lo conosce questa possibilità, cosa avete in testa voi? Parliamo di biometanolo, che è una soluzione, diciamo, che stiamo già adottando in Danimarca e che sostanzialmente sfrutta il recupero della CO2 biogenica, quindi una CO2 neutrale che sostanzialmente significa il carbonio generato dal carbonio stesso, quindi biomasse, eccetera, che viene unito all'idrogeno ottenuto attraverso l'elettrolisi. È chiaro che questa è potenzialmente in prospettiva una soluzione molto importante per il porto. Noi abbiamo siglato un accordo in Danimarca con MERSC che si sta facendo costruire otto navi da Hyundai a ibride, quindi con la possibilità anche di utilizzare questi carburanti, questi biocarburanti e in futuro io immagino che le grandi compagnie ovviamente andranno ad attraccarsi nei porti che hanno la possibilità di offrire questo tipo di video. Oltre al discorso dell'elettrificazione delle banchine, dove stavo arrivando. L'elettrificazione delle banchine è un tema estremamente importante, il cold ironing è un discorso che nel nord Europa è già molto avanzato per fare il cold ironing, però ovviamente servono delle infrastrutture rinnovabili. Ora, le infrastrutture rinnovabili nel porto di Genova possono essere il fotovoltaico flottante e l'offshore flottante. È chiaro che l'offshore flottante ha delle criticità e delle tecnicalità che vanno valutate in maniera approfondita. Noi stiamo portando avanti due progetti, uno nel sud del mare di Sicilia e uno di fronte a Civitavecchia. Stiamo ancora in attesa anche qui delle normative, perché ovviamente questi sono... La interrompo solo perché così arriviamo al nocciolo. Assessore, lei stava ascoltando quello che diceva Migliorini, ovviamente lei è assessore del Comune di Genova, può essere un'idea quella di Migliorini in qualche modo trasportabile? Ovviamente ci vuole il tempo, ci vogliono delle infrastrutture, ci vuole... Insomma non è una cosa che fai domani mattina, però quello che hanno fatto già in altre parti del mondo, per quello che può... Lei di sua competenza ovviamente, però così sentendolo parlare... Può essere, anche perché noi dobbiamo sempre guardare idee sempre più innovative. Quello che magari qualche anno fa sembrava innovativo, oggi non lo è più e quindi le idee nuove aiutano e poi sappiamo che in pochi anni poi possono diventare l'ordinaria età. Soprattutto anticipare i tempi e muoversi anche come città e come porto per anticipare certe tendenze è assolutamente fondamentale. Negli anni passati, forse per molto tempo, un po' di tempo l'abbiamo perso, lo dico come sistema città, come sistema regione, parlo degli ultimi vent'anni, oggi mi pare che ci sia maggiore attenzione e che soprattutto anche dai dati che mostrava ci sia la possibilità di recuperare quelle posizioni, soprattutto io penso sul fotovoltaico. Abbiamo attivato una serie di tele rilevamenti sulla città proprio per andare a individuare tutte le superfici piane, perché è necessario comunque avere i dati e sulla base dei dati poi comprendere in che termini è possibile incrementare la presenza del fotovoltaico. Lo faremo sulle scuole ma cercheremo anche di spingere i privati coinvolgendo i cittadini, coinvolgendo i proprietari immobiliari, gli amministratori per far comprendere come il fotovoltaico, superando naturalmente tutte quelle che poi sono le normative che riguardano una parte della nostra città, penso al centro storico, possa essere nei prossimi anni incrementato in maniera forte. Parlando anche di energia e di energia rinnovabile, i rifiuti, è un tasto per tutti, da Roma a Milano, per le grandi città, un tasto dolente. La Liguria negli ultimi anni ha speso addirittura 100 milioni o più o meno per portare la spazzatura fuori regione. Un inceneritore di nuova generazione può in qualche modo essere il futuro e il biogestore, che è uno dei grandi vostri, in qualche modo anche obiettivi, è stato escluso dai fondi del PNRR, è il primo dei non esclusi, quindi potrebbe anche rientrare a ottenere il finanziamento nel caso, probabilmente, non so come sia esattamente, ma immagino che se un progetto non dovesse essere portato a termine, il biogestore sarebbe il primo a entrare in graduatoria. Com'è la situazione ad oggi? E se non dovesse ricevere i fondi del PNRR, andate avanti in un altro modo? Innanzitutto dobbiamo ragionare, come sta ragionando la regione, pensare alla Liguria come un unico bacino, perché comunque siamo una regione che ha un numero di abitanti contenuto, quindi quando pensiamo alla gestione dei rifiuti, dobbiamo pensarlo a livello regionale come un unico bacino. Il termonorizzatore è il futuro, ma in realtà è il passato, perché se guardiamo alla Lombardia e all'Emilia Romagna, già negli anni 80 e 90 facevano i termonorizzatori in ogni provincia. Purtroppo anche qui c'è stata una certa miopia, mi piace ricordare sempre come il buon Pericu arrivò a fare la delibera per fare l'inceneritore a Genova, ma poi trovò successivamente tutta una serie di ostacoli. Se oggi Genova avesse il termonorizzatore non avrebbe dovuto affrontare tutti i problemi che conosciamo. Avremo sicuramente un termonorizzatore in Liguria, che probabilmente sarà sufficiente a dare una risposta alla necessità di allocare rifiuti, quindi il termonorizzatore andrà a produrre energia, ma ci sono dei progetti molto interessanti, il waste to chemical, quindi la trasformazione del rifiuto anche in combustibile, che sono progetti che ormai sono assolutamente attuali e sui quali vogliamo puntare. Poi su questo credo che, visto che al tavolo abbiamo il nostro presidente di AMIU, Giovanni Battista Raggi, ci spiegherà come è. Ferrari ha parlato ancora di, torniamo un attimo per un istante alle comunità energetiche, chi ci ascolta da casa, poi dice sì, sembrano parole belle, bellissime, però poi magari rimangono un po', cosa deve fare? A parte chiamare voi, però non lo so, uno poi sceglie l'interlocutore che crede, però praticamente deve essere una cosa gestita da tutti i condomini, deve essere, ovviamente tutti devono essere d'accordo, come funziona proprio praticamente? Non penso che basti uno, no? Deve esserci... No, allora, diciamo che per costituire una comunità energetica, per costituire una comunità energetica servono al minimo due condomini, però l'ideale è una decina di utilizzatori, perché con due condomini è tecnicamente fattibile, ma dal ritorno non ottimale, diciamo così, quindi la taglia classica, ottimale, ideale, è una decina di condomini, non deve essere né troppo grande né troppo piccolo il consumo, per avere la massima efficacia, l'ente aggregante appunto è il condominio, per cui nel condominio c'è la facilitazione di avere un gestore in casa, che è l'amministratore di condominio, per cui i cittadini che volessero spingere, un po' sulla creazione della comunità nel proprio condominio, in primis dovrebbero rivolgersi all'amministratore e per il tramite dell'amministratore e di società come la nostra, ma ce ne sono anche altre, per l'amor di Dio, che si propongono con una soluzione di questo tipo, appunto il valore aggiunto è quello di affidare sotto certi aspetti a un terzo, come possiamo essere noi, la gestione di tutta la parte burocratica che è un po' pesantina, comunità se la possono costituire sotto certi aspetti anche da soli, serve invece al supporto di una competenza specifica. E poi faccio sempre domande dell'uomo della strada, quanto ci vuole poi, una volta che l'amministratore, poi da quando si decide di farlo? Tecnicamente da quando si decide di fare la comunità, quando si può mettere in funzione la comunità in un condominio, tendenzialmente è il tempo di realizzazione dell'impianto, quindi si parla di mesi, non di secoli, l'iter è semplificato, ma anche molto meno di un anno da questo punto di vista. Un altro degli elementi fondamentali è come il singolo poi si gestisce il suo autoconsumo, o meglio a contezza effettivamente dei flussi che vengono scambiati tra la rete, il suo contatore e il contatore del delede, tra virgolette. Su quello serve un'applicazione, un sistema di gestione informatico che tutti quelli che propongono noi stessi abbiamo, fruibile con una semplice applicazione in maniera molto immediata, che oltretutto ti dà anche dei consigli su come gestire al meglio le tue abitudini di consumo in casa, che vanno un po' modificate quando hai un impianto di produzione sul tetto, perché tipicamente noi siamo abituati a fare la lavatrice di sera, perché abbiamo ancora il concetto della tariffa scontata e via dicendo, quando invece abbiamo un impianto fotovoltaico sul tetto la lavatrice te la devi fare di giorno, perché il sole c'è di giorno, la produzione c'è di giorno, il tuo consumo c'è di giorno e la comunità energetica trae il suo massimo beneficio dal consumo accoppiato alla produzione nel momento in cui il sole c'è, il consumo c'è e l'incentivo viene anche maggiorato da quel punto di vista, quindi anche dal punto di vista economico delle bollette o del risparmio sulla bolletta, il modificarsi un po' le proprie abitudini di consumo per sfruttare al 100% l'opportunità di avere l'impianto fotovoltaico sul tetto, è un qualcosa che tramite queste applicazioni riesci a sfruttare bene. Raggi, l'assessore Campora mi ha dato l'assist, l'impianto biogassi di Scarpino funziona bene, da anche in qualche modo soddisfa i bisogni, se non sbaglio i numeri possono essere aumentati di più di 2.000 persone, di 2.000 famiglie. Sì, di più, di più, da questo punto di vista sono 3.000-4.000 famiglie. Ah, sono aumentati, quindi bene. Sì, poi dipende ovviamente dai periodi di formazione. Ci spiega come funziona? Ma semplicemente è un impianto che va a intercettare il metano che si forma negli strati, diciamo delle discariche vecchie, quindi Scarpino 1 e Scarpino 2, che deriva sostanzialmente dall'invecchiamento e la decomposizione dell'umido che si trovava sottostante, forma queste sacche di metano che vengono captate e poi vengono raffinate e messe in parte, in realtà vengono utilizzate in delle turbine per la produzione di energia elettrica, per far funzionare l'impianto stesso. E in parte vengono immesse invece in quello che è l'impianto gas normale e quindi poi arrivano alle case di noi cittadini sotto forma di gas ordinario. E quindi queste 3.000 famiglie sono state scelte come? No, beh, è un numero equivalente, nel senso che entra nella rete gas. Ok. Dopodiché, diciamo, quali sono le famiglie specifiche è impossibile saperlo, perché comunque sia fa parte della rete gas. Ma loro lo sanno. Loro lo sanno. Neanche loro lo sanno. Lo sanno da questo punto di vista. È come se fosse una produzione elettrica fatta a pannelli dove poi viene riportata all'interno della rete elettrica nazionale. Non saprei mai da quale pannello esatto proviene la mia energia. Sento, lo chiedo anche all'assessore, ma lo chiedo anche a lei. Scarpino, insomma, che è addosso, da quando ero bambino è sempre stato un po' al centro dell'attenzione per mille motivi. Sarà sempre il luogo dove i rifiuti di Genova andranno a finire? No, non sarà sempre il luogo dove andranno a finire i rifiuti, perché comunque sia le autorizzazioni dell'ultima parte della cosiddetta Scarpino 3 prevedono che vada ad esaurimento nei prossimi 5-6 anni, poi dipende la durata da quante tonnellate si portano ogni anno di rifiuti e la discarica. Passato questo termine andrà nel cosiddetto ciclo post-mortem, quindi nella reecologizzazione della zona e quindi nell'inertizzazione delle discariche per la messa in sicurezza. Però quello rimarrà un pollo industriale che potrà essere utilizzato e dovrà essere utilizzato comunque, vuoi, in parte ovviamente per quanto riguarda la tutela ambientale, che so io con gli impianti, non solo quello di captazione del biogas, diciamo del metano, perché poi in realtà metano è, ed è un po' stupido dire biometano perché tecnicamente metano è, non esiste il biometano da questo punto di vista. Dall'altra parte però abbiamo degli impianti come il depuratore Siman 2 che serve a pulire, chiamiamolo così, il percolato che si forma, che continuerà a funzionare ragionevolmente almeno per 30 anni, se non di più, è ad esempio quello di un impianto che non produce energia, ahimene consuma, però produce ad esempio come residuo dei fertilizzanti che poi possono essere riportati in un'economia circolare. Quindi qual è il futuro, ossessore, anche del... Beh, tanto bisogna sempre ricordare... I rifiuti di Genova, dove andranno a finire tra dieci anni? Tanto bisogna sempre ricordare che a Scarpino non ci vanno i rifiuti di Genova, nel senso che a Scarpino non ci va qualsiasi tipo di rifiuto, c'è il rifiuto nel cassonetto grigio, l'indifferenziato, non va a Scarpino e non potrebbe andare a Scarpino, viene trattato, a Scarpino ci vanno tutti i rifiuti che sono trattati, non solo quei di Genova, ma ci sono anche degli spazi che vengono dati anche ad aziende, che sono rifiuti trattati che non hanno la frazione di umido, quindi rispetto a quella che era Scarpino di una volta, oggi non si produce più percolato, almeno con i nuovi conferimenti. Ed è una discarica che è diventata, cioè le modalità con cui si è intervenuti, è diventato un modello nazionale, tanto che proprio anche sabato scorso eravamo col commissario nazionale sulla bonifica di siti contaminati, che ha preso Scarpino non come modello, nel senso che Scarpino non ci doveva essere, è stato uno sbaglio dei nostri avi, però ci sono state delle modalità di intervento, soprattutto sul percolato, sul biogas, che sono uniche e AMIU e i nostri tecnici sono stati chiamati anche dalla struttura nazionale per affrontare il tema di Malagrotta, che è la discarica più grande d'Europa. Questo per dire che Scarpino non è più la Scarpino di una volta dove c'erano tonnellate di rifiuti all'aperto, migliaia di gabbiani, no, non c'è più nulla di tutto questo, è una discarica molto controllata, controllata da ARPAL, riaperta nel 2018 dopo la chiusura del 2015 e a Scarpino non si porteranno più rifiuti ma potrà diventare anche un polo dell'economia circolare e stiamo lavorando su questo. Quindi i rifiuti comunque dei genovesi fra dieci anni andranno? I rifiuti dei genovesi andranno sicuramente nel termovalorizzatore che ci sarà in Liguria, andranno nell'impianto di trattamento meccanico biologico che è in costruzione a Scarpino dove c'è un impianto che sarà terminato nei prossimi due anni e mezzo e una parte dei rifiuti andranno lì e una parte sicuramente andranno a saturare gli altri impianti Liguri, tra i quali il costruendo termovalorizzatore. Che si farà dove? Dove si fa il termovalorizzatore non compete al comune di Genova. Io posso dire come comune che noi come comune di Genova se ci chiedono di candidarsi a ospitarlo noi l'ospitiamo. Ci sono altre città che si stanno candidando? Questa è una scelta che andrà fatta, che farà, si sta facendo in queste settimane, in questi mesi forse la farà l'agenzia dei rifiuti, l'agenzia Ligure che verrà costituita nel mese di giugno, nel mese di luglio sicuramente ci sono molti siti che vengono vagliati. Posso dire che come Genova nel momento in cui la regione ci dovesse chiedere la disponibilità noi diremo noi come Genova siamo disponibili a fare la nostra parte per la Liguria. Ero un po' con le scatole e nel caso avreste già individuato anche una zona? Diciamo che noi siamo sempre pronti, abbiamo sempre un sacco di piani, abbiamo il piano 1, piano 2, piano 3, piano A, piano B, piano C, quindi nel momento in cui ci dovessero chiedere qualcosa noi ci siamo. Grazie. Montanella, voi avete fatto qualcosa di particolare sulla vostra, sui tetto, sul tetto della vostra azienda, l'idea è quella di un progettino molto particolare, anche innovativo, ce lo spiega? Sì, allora intanto buonasera a tutti, rappresento Gruppo G, noi siamo un gruppo di concessionari di automobili, noi abbiamo fatto recentemente un accordo con un fornitore per un impianto in realtà fotovoltaico, fa parte di una strategia verso la sostenibilità che come azienda abbiamo iniziato parecchio tempo fa, l'avevamo fatto con le colonnine in partenza quando ancora non erano ancora così sviluppate, ce l'abbiamo in tutte le nostre sedi della regione e poche settimane fa abbiamo appunto firmato l'accordo per questi lavori che inizieranno a giugno e nel giro di tre mesi saranno pronti. Grazie a questo sistema noi riusciremo ad avere l'autoconsumo istantaneo fino all'80%, ma soprattutto, la cosa più importante, riusciremo ad avere una riduzione di CO2 fino a 180 tonnellate all'anno. Questo è secondo noi la cosa più importante perché poi il nemico vero, a parte il motore combustibile, è proprio il consumo di CO2. Come dicevo fa parte di un progetto verso la sostenibilità della nostra azienda che passa per le strutture, passa verso i prodotti dove a fianco alle macchine che vendiamo a combustibile si stanno affiancando quelle ibride, plug-in piuttosto che elettriche, ma soprattutto anche i servizi che noi andiamo a offrire sono piuttosto innovativi perché anche si stanno studiando delle forme di mobilità in cui chi guida green, cioè chi guida in elettrico, non paga l'assicurazione piuttosto che il tasso di interesse. Insomma, è tutta una strategia che stiamo cercando di mettere in piedi, lo facciamo con le case automobilistiche che rappresentiamo, sono 11, quindi il portafoglio di offerte che riusciamo a dare ai nostri clienti, ma anche alla comunità in cui viviamo, è piuttosto importante. Un'idea importante, un'idea innovativa, arrivata come vi è venuto? Insieme all'Axpo, se non sbaglio è il vostro partner? Il nostro partner è Axpo, ma l'idea arriva dal fatto che noi viviamo in una città, io sono tornato a vivere a Genova quattro anni fa, la prima cosa che ho detto ai miei è che dobbiamo un attimo vivere, essere cittadini della città in cui viviamo, cioè quindi come noi offriamo determinati prodotti e viviamo sui nostri clienti, è importante anche che contribuiamo in qualche modo tramite le nostre strutture a rendere migliore il territorio in cui lavoriamo, quindi questa è principalmente l'idea che ci guida nelle scelte aziendali che facciamo di questo tipo. Quindi risparmiare e al tempo stesso fare bene all'ambiente. Esatto, entrambe le cose. Con lei parleremo più tardi anche di un argomento che sta a cuore un po' a tutti perché se ne parla anche nei bar, ma una volta si parlava nei bar, ma comunque anche sui social, comunque se ne parla anche in famiglia, che è quello legato alla mobilità elettrica. Voi vendete anche macchine elettriche, poi io le chiederò perché sono anche molto curioso di sapere come sta andando questa fetta di mercato che insomma in qualche modo è un po', dicono, io chiederò un po' a lei, il futuro. Sarà il futuro veramente? Sicuramente il futuro. Allora, nel 2035, l'abbiamo sentito anche prima, c'è questa normativa. Il punto è la velocità con cui si arriva a quella data e le modalità. Noi dobbiamo offrire questi prodotti, fanno già parte del nostro parco auto, tuttavia in Italia la quota dei veicoli elettrici, full electric, non rappresenta neanche il 4%, quindi su 100 auto vendute neanche 4 sono elettriche. Genova purtroppo ne ha ancora meno, questo non perché non ci siano le colonine, ma perché la conformazione territoriale consente di avere meno box, quindi la gente è anche più preoccupata su dove si possa ricaricare l'automobile. Quindi sicuramente se andrà in quella direzione bisogna capire la velocità in cui ci si arriva e noi dobbiamo capire anche come poter supportare tutti per arrivarci nel modo corretto. Ce ne parlerà anche dopo la velocità, perché affronteremo questo tema davvero particolare. Ringrazio Jacopo Riccardi, Logistica Porti Energia Regione Liguria. Grazie a voi. Buonasera, Giovanni Battista Raggi, anche per essere stato con noi, c'è anche spiegato un po' qualche novità in arrivo insieme all'assessore, anche perché questo è un tema che sempre sta molto a cuore, insomma un po' a tutti ovviamente, ma i genovesi anche quello legato proprio anche allo smattimento dei rifiuti. Poi con lei ci sarà da parlare, ma ne parleremo anche più avanti, di tutto il mondo legato anche alla differenziata, ovviamente questo è molto ambiente. Come sta andando la differenziata a Genova? Meglio, cresce, cresce progressivamente, adesso siamo al 49 di media dall'ultimo mese, quindi stiamo migliorando anche rispetto all'anno scorso, invece dove abbiamo i nuovi sistemi siamo già oltre 65, quindi 49 come media su tutta la città e nei quartieri dove abbiamo il nuovo sistema, che so che a lei non piace particolarmente, ma diciamo in realtà è molto efficace, perché nonostante lo scarso appeal ci permette di superare in quei quartieri già al 65. Quindi ci sarà modo di... Ci riferiamo ovviamente, perché non ha capito di cosa stiamo parlando, dei nuovi cassonetti intelligenti. O presunti tali, diciamo così. Presunti tali, perché questo me lo hanno detto a casa, insomma l'imbocco dove si mette la spazzatura, assessore, so che anche lei ha ricevuto qualche... L'imbocco deve essere piccolo, ma deve essere così, perché sennò la gente ci mette dentro anche il divano. Quindi ha una sua logica, i produttori hanno fatto studiare. Siamo in un bar, anche nella regia, mi dicono è troppo piccolo però. In realtà non è troppo piccolo, lì quando si progettano questi cassoni c'è una progettualità importante, sono già stati utilizzati. Il fatto che sia piccolo migliora la qualità di quello che ci sarà dentro. Più è grande il foro d'entrata, più la percentuale di impurità è alta. E se la percentuale di impurità è alta dentro un cassone della plastica, io tutto quello che c'è in quel cassone corre, però me lo restituisce e mi fa pagare anche le penali. Quindi ha una sua logica. Assolutamente, anche perché penso che le misure le abbiate scelte né lei e né raggi. Quindi immagino che siano misure europee, dettate anche, siamo imposte dall'Europa. Esatto, sono misure standard da 50 litri sostanzialmente. Però è vero anche questo, penso che comunque il cittadino che se non entra il primo sacchetto poi uno lo lascia lì, poi quello che arriva dopo non spinge col ditino l'altro e quindi lo pone lì. Io sono su questo, io sono convinto e l'abbiamo già verificato che nel primo mese abbiamo una serie di criticità forti. Poi siccome i cittadini genovesi sono persone intelligenti e amano la propria città, iniziano ad utilizzarlo nella maniera corretta. Cassonetti intelligenti per i cittadini intelligenti. Intelligenti, esatto. Grazie. È venuto a trovarci anche Lairia Gavuglio, presidente dell'AMT di Genova. Buonasera, buonasera. Parleremo anche con lei di tante cose. Parliamo un attimo, abbiamo detto di parlare di mobilità sostenibile, assessore. Come comune, negli ultimi tempi avete fatto due forme di incentivi. La prima per le biciclette elettriche, per le moto elettriche, comunque per i mezzi elettrici, a due ruote, se non sbaglio. E la seconda per venire incontro anche alle direttive europee che insomma impongono il divieto di accesso per gli euro... Euro 3, diesel. Ecco, nel primo è andato molto bene, anche personalmente so di avere sconti importanti, proprio in contanti, proprio per chi sceglie di utilizzare il mezzo a due ruote per andare anche in città o per andare in campagna. Un po' meno bene è andata e sta andando quello legato al cambio dell'auto. Sono numeri... In realtà, allora, noi abbiamo questo piano che è il piano come dimensione quantitativa più grande che si è mai visto in Italia. Abbiamo ottenuto dal Ministero della Transizione Ecologica insieme alla Regione 18 milioni di euro. Questi 18 milioni di euro verranno spalmati su tre anni e li utilizzeremo per incentivare il cambio dell'auto. Quando parliamo del cambio dell'auto mettiamo dentro le elettriche che avranno un beneficio di 9 mila euro oltre naturalmente al beneficio dello Stato fino ad arrivare poi alle ibride, fino ad arrivare poi anche agli scooter elettrici con un beneficio di 700 euro e le e-bike 700 euro. Quindi è un incentivo importante che sommato all'incentivo statale arriviamo a oltre 10 mila euro e i risultati sono sicuramente in questa fase soddisfacenti e naturalmente qualora dovessero rimanere dei fondi li andremo comunque a utilizzare sempre per incentivare la mobilità sostenibile. Poi una delle ultime iniziative che abbiamo fatto e che è stata portata avanti da MT è quello anche di dare un premio a colui che rottama l'auto senza comprarne una nuova. In questo caso è previsto un beneficio di 5 anni di abbonamento a MT e anche questa formula naturalmente non potrà interessare migliaia di persone perché non sono poi molte quelle che si disfano dell'auto però rappresenta un incentivo innovativo che ha anche una certa logica. Sta andando bene? Questa è una bella idea, Presidente. Un'ottima idea. Si affianca alla nostra idea che al di là della transizione all'elettrico dobbiamo convincere i nostri cittadini a usare il trasporto pubblico e dobbiamo per fare questo aumentare l'attrattività l'efficacia e la convenienza e quindi questo diciamo incentivo si colloca proprio in questo senso. Vi facciamo sentire intercettati della nostra Laura Bottino qualche genovese che nei corsi Italia insomma o va a lavorare in bicicletta o si diverte comunque sulle due ruote tra l'altro bisogna essere onesti fino a qualche anno fa andare in bicicletta a Genova era un'impresa proibitiva meno che non fossimo con dei muscoli importanti Corso Italia è un progetto che ci ha fatto penare molto perché quando abbiamo iniziato a portarla avanti però è un progetto che secondo me ha dato grande soddisfazione a tutti. Però i genovesi sono un po' bugognoni perché anche il Corso Italia mi ricorda un po' di polemiche poi alla fine poi ci vanno quindi però all'inizio Sì non è stato facile partire con Corso Italia perché non è facile accontentare tutti però devo dire che la maggior parte delle persone che erano contrarie poi vedendo come è diventata Corso Italia la stanno apprezzando. Vediamo il servizio. Il caro carburante non colpisce però solo il mondo del commercio sono molti i genovesi che hanno deciso di trovare soluzioni alternative per muoversi in città tra queste la bici anche se il prezzo della benzina non è l'unico motivo. Vivo a quinto e lavoro a quarto alla Casa della Salute sono un'infermiera e quindi credo nella salute. Io cerco di andare in lavoro in bici più che posso sì. E da quando hai fatto questa scelta? Dopo due o tre mesi che maledivo la pista ciclabile perché aveva fatto aumentava le code dopodiché mi sono comprato la bicicletta e vado in ufficio in bici poi il consumo in casa ufficio non sono un granché però più che altro fa bene quindi uno riesce a uscire a cena mangiare bere e poi consuma qualcosa. Qua vicino ho un magazzino ci tengo la bici e una o due volte alla settimana vengo qua. L'auto non la uso mai uso solo lo scooter per andare a lavorare. Avere un'auto qui costa troppo il prezzo del carburante è altissimo per non parlare del parcheggio ho preso la decisione di usare il monopattino elettrico e sono molto contento certo bisogna stare attenti. metro in everywhere quindi è facile per me usarlo e anche per esempio ora posso usarlo in Waku per visitare il sede e tutto insieme. Assessore non ci siamo messi d'accordo però insomma un cittadino che ha detto ero contrario alla pista poi invece chiedo di passarmi il video questo può essere uno spot neanche farlo apposta Barbero invece voi con le vostre con le vostre vici motorine elettrici insomma che è una vostra è un punto di forza importante sta crescendo molto questo mercato sta crescendo noi in realtà sponsorizziamo chi fa il servizio che è ZigZag e abbiamo iniziato a metà a metà a metà dicembre con i primi 100 mezzi e dovremmo a breve metterne altri 100 sicuramente Genova è la città perfetta per lo scooter rispetto a altre città del nord tipo Milano Torino dove d'inverno in realtà poi lo scooter un po' per condizioni meteo un po' per il freddo non viene non è particolarmente apprezzato qui in realtà la risposta è possibile la città dove ci sono più mezzi comunque a due ruote se non sbaglio sì e poi c'è anche Savona che ha moltissimi mezzi in percentuale sta crescendo anche Savona sì sì Campanella lei come si muove? io mi muovo in macchina con i scooter però entrambi diciamo senta una delle abbiamo parlato prima ovviamente tra le auto che vende ci sono anche quelle elettriche una fetta di mercato che sta si sta allargando o ci sono ancora tanti dico genovesi ma che poi i genovesi puoi essere un milanese un torinese penso che cambi poco qual è la prima cosa che le chiede chi entra nei suoi saloni per chiedere la batteria quanto dura fin dove posso arrivare quanto risparmio cos'è la Genova quanto costa scherzo però a parte le battute la domanda principale che ci fanno tutti è l'autonomia di queste vetture nel senso la preoccupazione è il rischio di rimanere a piedi ogni quanto la devo ricaricare quanto ci mette a essere ricaricata c'è tantissimo interesse nei confronti di queste di queste automobili l'unica preoccupazione è un po' quello che viene in inglese viene chiamato il total cost of ownership cioè il costo totale di un'auto elettrica perché il valore della vettura è più alto rispetto a una combustibile e con i costi dell'elettricità che nell'ultimo anno sono anche un po' saliti diciamo che sta diventando un po' costoso l'auto elettrica europea perché poi c'è anche quella cinese che piano piano sta arrivando il mese scorso se si guardano le matricolazioni del mercato italiano ci sono alcuni player cinesi che hanno incominciato a superare quegli europei perché cominciano a garantire dei prodotti di buona qualità a un costo molto più basso quindi questo è un tema che va assolutamente affrontato detto questo la richiesta di auto elettriche al momento non è molto alta mentre cresce continuamente quella di auto ibride auto ibride plug in il cliente è confuso il cliente è preoccupato cioè c'è il combustibile anzi faccio sentire questo servizio del nostro Andrea Popolano così poi lo commentiamo insieme auto elettriche si auto elettriche no il mercato in Italia prova a crescere temi di discussione sono ancora tanti per una city carabenzina servono tra i 14.000 e 17.000 euro mentre per un'elettrica dello stesso tipo ce ne vogliono più del doppio 30-37.000 a fare da contraltare c'è il costo di un pieno che per l'auto elettrica arriva al massimo a 40 euro seppur tra mille variabili il risparmio c'è ma i tempi per una sosta al distributore bastano pochi minuti per fare il pieno di energia servono dalle 10 alle 12 ore le colonnine in città iniziano a moltiplicarsi e l'approvvigionamento diventa così più semplice l'autonomia è però limitata rendendo di fatto al momento decisamente complicati i lunghi viaggi di positivo ci sono i consumi ridotti assicurazioni e bollo che costano meno e poi ci sono i bonus statali che incentivano l'acquisto l'elettrico abbatte inoltre l'inquinamento acustico e secondo i dati ufficiali portano a riduzione delle emissioni di CO2 fino al 45% tuttavia le batterie vanno smaltite il costo non è trascurabile circa 4 euro e mezzo al chilo una batteria d'auto arriva a pesare fino a 300 kg e se lo smaltimento non viene fatto in modo adeguato per l'ambiente è un boomerang le auto elettriche sono più facili da guidare la manutenzione è più semplice e di conseguenza meno costosa in media si pagano 182 euro l'anno contro i 314 per quelle con motore a combustione interna oggi secondo i dati dell'agenzia internazionale dell'energia la produzione mondiale energetica arriva al 31% dal petrolio quasi il 27% dal carbone poco più del 23% dai gas naturali per il 9% da biocarburanti al 5% dal nucleare il 2,5% dal libro elettrico e il resto tra cui eolico e solare rappresenta il 2% per la transizione energetica c'è dunque tutto un discorso legato alle infrastrutture di estrazione produzione e distribuzione da realizzare per reggere alimentare e rendere autosufficiente il sistema ma quanto costa crearle ex novo o quasi? secondo le steam per costruire una centrale elettrica servono quasi 2000 euro per kilowatt di energia prodotta e per realizzarle trasportare i materiali e metterli in funzione cosa si usa? tutta energia green? o servono ancora le vecchie fonti inquinanti non rinnovabili? Migliorini insomma questo sono tanti temi poi lo chiedo un po' a tutti perché vedevo che Silvestri su alcuni dati non era d'accordo anzi me lo dice subito così dove contesta in qualche modo lì si diceva qualcosa di corretto per quanto riguarda la ricarica domestica se uno va in casa e mette la propria auto elettrica in ricarica effettivamente ci vuole una notte ma parliamo di una ricarica domestica con l'auto elettrica adesso tu puoi andare in giro e fare anche delle tratte lunghe come faccio io con la mia auto elettrica che uso solo quella e vado dappertutto e faccio dei biberonaggi nelle auto grill dove ci sono le colonine fast e super fast e con 20 minuti carico dal 30 al 70% e ricomincio il mio viaggio Migliorini io vivo in un paese dove ormai l'auto elettrica è diventata un fattore abbastanza comune addirittura in Norvegia credo che abbiano aggiunto l'80% delle auto elettriche la Norvegia fa un po' storia a sé io credo che il tema vero sia il costo dell'energia perché se si riesce a ridurre significativamente il costo dell'energia è evidente che poi anche in un piano finanziario chiamiamolo a lungo termine si hanno dei benefici importanti per ridurre il costo dell'energia io continuo a dire sempre che bisogna produrre più energia green non soltanto a livello domestico ma soprattutto attraverso gli utility scale e attraverso delle infrastrutture che permettano la produzione sul territorio e l'autoconsumo Presidente Cavuglio come si sta rinnovando il vostro il vostro parco mezzi? Si sta rinnovando molto molto velocemente avremo entro l'anno 136 mezzi elettrici e proprio questa sera abbiamo comunicato l'avvio di nuove quattro linee completamente elettriche in ambito urbano e sul ponente sicuramente nel nostro caso l'impegno è grande nel senso che l'autobus elettrico ha un costo circa pari al doppio di un autobus termine e implica tutto uno studio ingegneristico di potenze di meccanismi di ricarica che implicano anche l'infrastruttura quindi l'elettrificazione delle rimesse stiamo andando avanti però velocemente e per dare un numero diciamo per caricare 10 autobus elettrici questi impegnano la potenza di 167 appartamenti quindi nel nostro caso è davvero un'elevatissima potenza e quindi anche uno studio ingegneristico sulle potenze per le infrastrutture necessarie però andiamo avanti dal primo di luglio avremo la prima linea anche in ambito ex urbano totalmente elettrica Santa Margherita e Portofino e stiamo lavorando anche per altre nuove linee elettriche tra le criticità però ovviamente voi state facendo molto e siete forse a Genova una delle città lo chiedo anche l'assessore ma penso che la risposta anche del presidente sia la stessa insomma città dal punto di vista dei mezzi pubblici che vanno in questa direzione è una delle città alla vanguardia ma sull'elettrico in proporzione al parco mezzi siamo la prima ah di amici sì questi sono i numeri abbiamo un investimento nei prossimi anni di 200 milioni di euro che sono già stati riconosciuti in parte dal PNRR in parte dal Ministero dei Trasporti quindi abbiamo anche la possibilità di investire molto il problema che dovremmo affrontare in questo momento è la questione degli ordini e dei tempi di consegna dei mezzi che rappresenta sempre una criticità Presidente invece le infrastrutture sono una criticità oltre a questo che diceva l'assessore immagino le infrastrutture debbono accompagnare perché un mezzo elettrico non è solo sì è arrivato il mezzo elettrico e parte accende va gestito va mantenuto le stazioni di ricarica la logistica che cambia perché ovviamente il mezzo necessita della stazione di ricarica che occupa spazio però stiamo andando avanti abbiamo avviato anche la nostra rimessa di 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 rapallo continueremo con Sestri Levante continueremo a Genova con San Pierdarena e quindi via via arriveremo all'elettrificazione pressoché integrale nel tempo lei ci crede molto lo so le ultime volte che ci siamo visti insomma su questo tema lei è molto molto sensibile pensa che sia davvero la strada la strada giusta assolutamente anche perché a livello internazionale si parla sempre di impronta e l'impronta ambientale che noi abbiamo in qualche modo misurato da quando è avviato il nostro processo di elettrificazione cioè dall'anno 2019 abbiamo misurato una riduzione davvero sensibile degli agenti clima alteranti il 6% di monossido di carbonio e il 29% di PM10 quindi su questo siamo molto molto soddisfatti c'è una cosa che forse non è colpa sua ovviamente però mi guardi così però storicamente lo chiedo un po' a tutti che siamo più o meno tutti di Genova usare il mezzo pubblico per un genovese è sempre stato insomma un qualcosa di un mostro che oggi devo prendere l'autos ma è proprio quasi una minaccia o comunque l'estrema razio di prendere l'autos nelle maggiori città europee soprattutto insomma andare in centro con un mezzo pubblico è la norma lasciare la macchina chissà dove poi avvicinarsi al centro con il mezzo a Genova c'è sempre stata un po' questa remora a prendere il mezzo come si diceva una volta cosa potete fare per convincere in qualche modo loro stanno facendo loro non convincono nessuno a prendere il mezzo perché è assolutamente coerente il nostro servizio è coerente col trasporto pubblico il car sharing funziona nelle città dove il trasporto pubblico funziona perché fa l'interscambio perché incentiva il possessore di auto privata a privanza quindi ogni auto car sharing riduce un'auto 14 auto private diciamo dagli studi dell'osservatorio della sharing mobility rispetto a questo c'è tanta comunicazione nel senso poi ne parlavamo prima spesso chi si trova poi a prendere un autobus dice però non è così come è stato raccontato faccio prima e giro bene e soprattutto dai dati che noi abbiamo gli utenti del car sharing sono utenti del trasporto pubblico oltre che utilizzatori di bicicletta diciamo questo di solito è il profilo tipico come li volete però coinvolgere di più convincere in qualche modo i genovesi come diceva Silvestri prima non è poi così male prendere l'autobus tre cose attrattività efficacia e convenienza quindi un autobus elettrico è attrattivo è più confortevole non ha rumore è nuovo di fatto efficacia efficacia del servizio quindi dobbiamo migliorare il nostro servizio anche studiando servizi ad hoc specifici anche in base alle esigenze della domanda in quella zona e convenienza noi abbiamo lanciato tantissime promozioni tantissime esperimenti perché anche il prezzo ha la sua importanza ecco l'autobus a chiamata può essere un ottimo modo per venire incontro all'ambiente perché insomma fa le corse che deve fare non ne fa quelle inutili e in più insomma anche per l'utente non c'è spreco di risorse e va a diciamo rispondere alla vera domanda di quel momento e di quella zona quindi anche zone con una minima densità hanno un servizio ad hoc e l'utente può decidere il suo percorso i suoi tempi con una semplice telefonata una app piuttosto che prenotando direttamente al capolinea quindi è un servizio anch'esso sostenibile perché non va a sprecare risorse quando non c'è una necessità Garbero invece voi state insomma con il vostro con la vostra attività anche di motorini elettrici qual è la difficoltà invece che che state incontrando di più su Genova manca ancora qualcosa per far decollare ancora il servizio tra l'altro servizio sta andando molto bene comunque no allora su Genova in realtà funziona meglio che dalle altre parti perché gli scooter come dicevo prima a Genova sono proprio nel DNA di chi si muove è chiaro ne parlavamo prima i servizi di sharing hanno un po' un effetto di cane che si morde la coda perché più mezzi metti più la gente li vede ed è incentivata a prenderli ma ovviamente poi i tuoi costi aumentano e quindi alla fine l'utilizzo del singolo mezzo si disottimizza quindi questo è un po' un tema dello sharing lo sharing dovrebbe essere in qualche modo aiutato dovrebbe essere aiutato o con politiche di chiusura dei centri qualche cosa adesso mi ammazza o con degli incentivi o rivedendo ad esempio non so il car sharing paga l'IVAL 22 mentre altre forme di trasporto la pagano ridotta quindi dovrebbe essere un po' aiutato perché ancora si fatica probabilmente nel tempo via via e sicuramente una delle cose che la pandemia ha fatto ha bloccato di fatto la crescita dello sharing perché ovviamente poi tra che stavamo a casa tra che c'era un pochino più di smart working e poi che anche entrare in una macchina usata da un altro magari non ti faceva particolarmente piacere c'è stato proprio si vedono delle statistiche che salgono fino al 2020 e poi crollano e quindi probabilmente ha comunque bisogno di essere un po' aiutato Assessore non hai idea di chiudere il centro? No a breve sicuramente no l'idea comunque guardando avanti l'idea l'idea nostra comunque è quella poi di fare in modo che le persone raggiungano il centro attraverso con l'utilizzo dei mezzi pubblici il progetto dei quattro assi di forza questi 471 milioni di euro che prevedono anche l'acquisto di 140 mezzi e la riqualificazione di tutte le rimesse lo Sky Metro i prolungamenti della metro che abbiamo già in corso abbiamo già i cantieri poi notizia recente che riceveremo anche il finanziamento per l'ulteriore prolungamento da Canepari a Rivarola a Pallavicini abbiamo un pacchetto oggi di 1 miliarde e 300 milioni di cantieri per quanto riguarda la mobilità io sono sicuro che attraverso queste opere noi renderemo più attrattivo l'autobus che peraltro già è attrattivo a Genova perché se andiamo a vedere le statistiche noi abbiamo già statistiche molto alte certo è una città particolare dove dobbiamo implementare soprattutto la presenza del parcheggio quindi la possibilità di avere dei punti dove le persone possono lasciare l'auto sarà così il parcheggio di interscambio di Genova Est così come il parcheggio di interscambio di Genova Ovest e poi possono prendere il mezzo e poi ricordiamo sempre che uno strumento di grande incentivazione è stato quello della gratuità perché è un modo anche per avvicinare l'utente o il cittadino a usare il mezzo e a provarlo questi dati questa sperimentazione ci dice che sugli impianti verticali abbiamo avuto un più 40% funicolari e ascensori e sulla metro nelle fasce di morbida siamo arrivati a un più 25% più 30% anche questo un modo per fidelizzare il cliente o meglio il cittadino faccio le domande sempre da Robbiscato quando lei ha detto il centro non lo chiudiamo adesso ma avete l'idea di farlo nel giro di qualche anno sicuramente abbiamo l'idea di fare dei varchi d'accesso stiamo già lavorando a un progetto con con Free2X e con con Liguria Digitale con la Regione e con gli uffici del Comune dell'Ufficio Smart Mobility per avere la possibilità di compartimentare la città soprattutto qualora ci possono essere anche degli eccessi di inquinamento le città del futuro sono per chi usa il mezzo pubblico questo non vorrà dire chiudere la città perché Genova non ha le caratteristiche mi viene in mente solo che il posteggio per i motorini in piazza Dante qui sotto dove tutte le mattine insomma che io faccio una guerra per cercare un centimetro libero tutta questa gente come può pensare che non venga più a lavorare con i mezzi no ma noi non diciamo che non deve venire cioè fin dove il centro fin dove pensate non diciamo che non deve venire a lavorare sappiamo che però il centro a un certo punto si satura fisicamente e non è possibile in centro individuare aree parcheggi ulteriori rispetto a quelle che abbiamo basta noi conosciamo la città siamo nati a Genova e sappiamo che abbiamo la possibilità forse di implementare alcuni parcheggi nelle aree esterne al centro perché abbiamo ancora queste possibilità penso all'area di Terralba penso ai 400 posti che sorgeranno sopra la rimessa di Staglieno penso ai parcheggi che si apriranno a breve a Genova Est che saranno più di 200 posti ma è difficile trovare ulteriori posti auto dovremmo facilitare ad esempio l'uso dello scooter lo scooter viene utilizzato da tutti occupa poco spazio naturalmente è auspicabile che uno possa passare allo scooter elettrico ma sicuramente non chiuderemo il centro cercheremo di portare le persone a utilizzare i mezzi però questi varchi che lei diceva che varchi sono? i varchi servono innanzitutto per leggere perché oggi non abbiamo numeri non siamo come a Milano dove abbiamo i varchi abbiamo i numeri precisi abbiamo i numeri di chi esce dall'autostrada tutti i numeri di autostrada i flussi di entrata e la provenienza dove arriva un'auto e perché arriva a Genova e dove esce però oggi non abbiamo grandi numeri sulla lettura dei flussi che si muovono in città quindi i varchi avranno la possibilità di tanto gestire anche avremo anche i varchi dell'autotrasporto quindi i varchi per accedere al porto che anche questo rappresenta un problema che verrà in qualche maniera risolto e poi attraverso l'esame dei flussi riusciremo anche a gestire meglio la mobilità in città cioè per noi è importante avere soprattutto per le strutture della mobilità è importante avere i dati Migliorini insomma lei è genovese come dicevamo prima lavora spesso all'estero insomma da questa chiacchierata di questa sera insomma che Genova si sta immaginando o comunque anche del futuro pensa che il lavoro anche dell'assessore del Comune del Presidente Gavuglio per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblici insomma si sta andando almeno in questo lei ha detto si sta andando nella direzione l'Italia in generale non sta andando nella direzione giusta invece insomma il Comune di Genova sta andando nella direzione giusta io credo di sì mi baso sempre sull'esperienza mia personale cioè io vivo in una città come Copenaghen dove effettivamente il trasporto pubblico è molto utilizzato si utilizzano molto le biciclette la macchina si usa molto poco per cui mi sembra che l'approccio sia quello quello giusto la cosa che mi preoccupa di Genova è le prospettive sono le prospettive del porto l'affare sul biometano poi quando finisce la trasmissione con l'assessore perché sia l'elettrificazione l'elettrificazione del porto la possibilità di fare delle infrastrutture importanti come in altre regioni perché ho paura che tra 10-15 anni i grandi trasportatori sceglieranno dei porti dove ci sono le infrastrutture e ora anche con la nuova diga che sta per iniziare a essere costruita insomma già questo è un passo avanti epocale in qualche modo ci sono comunque sempre le direttive dell'Unione Europea che dice che bisogna ridurre il 90% le emissioni nei porti e quindi credo che quella sia inevitabilmente un elemento da considerare società o qualche consiglio noi parecchi nel senso che l'abbiamo fatto con Mersk in Danimarca l'abbiamo appena fatto con la Lego per la produzione dei mattoncini l'abbiamo fatto con Nova Nordisk per la produzione delle siringhe per i diabetici ci sono delle soluzioni che vanno prese in considerazione e vanno prese in considerazione adesso perché altrimenti arriviamo sempre per ultimo Gabuglio prima in chiusura e poi facciamo una domanda con la Montanella prima di chiudere la trasmissione per l'estate MT cosa ci riserva? MT sta studiando parecchie cose soprattutto per le serate diciamo nella riviera del Levante con l'aiuto dei comuni quindi servizi ad hoc dedicati alle famiglie ai giovani ma anche ai giovani e al rafforzamento delle linee serali cioè per chi va in discoteca? di chi esce alla sera? io in discoteca per tornare tranquillo a casa è meglio utilizzare il trasporto pubblico anziché l'auto privata è una bella ottima idea Campanella lui mi rimane l'ultima domanda ecco sì quando vengono da voi se le chiedono l'auto elettrica sì o no lei la consiglia sì o no? io la consiglierò dipende nel senso la migliore risposta dipende dipende l'utilizzo può vedere un cliente e dire lei cosa ne pensa? dipende l'utilizzo che uno ne fa è un ottimo prodotto per stare all'interno di una città e per muoversi in un ambito cittadino se uno deve percorrere delle lunghe distanze bisogna pianificarle bisogna pianificare magari dove ricaricare però sicuramente ripeto si va in quella direzione nel bene e nel male bisogna cominciare a pensarla in quel modo perché se no si va non ha senso quanto è cresciuto il vostro numero di auto diceva che per ora è ancora molto limitato come numero rispetto alle auto allora l'Italia come dicevo su 100 macchine nel 3.6 sono elettriche noi facciamo circa 800 macchine al mese e di queste 800 meno di 10 ibride invece di più ibride arriviamo quasi al 40% beh questo è già un com'è? la campanella deve consigliare per l'elettrico il car sharing poi per provarlo poi eventualmente lo compro infatti comunque si parla anche del fatto che della mobilità noi siamo assolutamente favorevoli alla mobilità anche se non vendiamo più macchine quello che stiamo cercando di fare è di dare dei servizi alternativi ne siamo tutti consapevoli che ci saranno meno auto e quelle che ci saranno saranno elettriche ma perché è una strada tracciata bisogna solo interpretarla nella maniera corretta grazie grazie a tutti voi per essere stati con noi finisce qui la corsa anche questa sera ringrazio che Filippo Rossi che ha guidato insieme a Federico Fazzini e adesso Caginai la parte tecnica e grazie a tutti per averci seguito appuntamento alla prossima puntata di Terrazza incontra l'ambiente e l'energia buonanotte grazie a tutti grazie a tutti